Roberto Tomasi, ricercatore del Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Strutturale dell'Università di Trento, oggi qui per presentare il progetto Chi Quadrato. In cosa consiste questo progetto di ricerca? È un progetto di ricerca industriale che prevede la partnership dell'Università dei Studi di Trento, in particolare del Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Strutturale e del gruppo che si occupa delle strutture in legno, facente capo al professor Maurizio Piazza. e noi ci occupiamo in particolare, nell'ambito di questo progetto, della progettazione sismica di questi edifici in legno con un sistema costruttivo a telaio. Questo progetto parte, diciamo, da più di un anno e mezzo, ha previsto un'ampia campagna sperimentale svolta presso il laboratorio Prove, Strutture e Materiali dell'Università di Trento, campagna che aveva l'obiettivo di studiare e ottimizzare il sistema costruttivo a telaio, tenendo conto delle peculiarità, diciamo, di questo sistema costruttivo studiato per il mercato italiano. Ecco, quali sono stati i risultati di questa campagna sperimentale? Allora, i risultati hanno consentito di ottenere un database di dati sperimentali molto ampio, di ottimizzare il sistema costruttivo, quindi di studiare nuovi sistemi di collegamento e nuovi sistemi per i solai. E questi sistemi sono stati poi implementati in una successiva fase di prova che è stata svolta presso il laboratorio EUS Center di Pavia, che è un laboratorio leader nell'ingegneria sismica a livello mondiale, presso il quale appunto è stato effettuato un test sismico in scala reale su un edificio di tre piani, in legno, appunto di dimensioni pari a 7 per 5 metri di base. Ecco, queste prove hanno dato risultati molto interessanti perché si sono applicate una serie di sequenze sismiche che sono, diciamo, quelle previste dalla normativa italiana nelle zone maggiormente sismiche in Italia e l'edificio non ha mostrato praticamente danni agli elementi strutturali. Dopodiché abbiamo eseguito altri test sismici con livelli di intensità superiore, fino a raggiungere il livello maggiore che è stato pari a un'accelerazione di picco al suolo di 1G, cioè pari al valore dell'accelerazione di gravità. Ecco, questo valore è un valore che è stato registrato, per esempio, nel terremoto del Giappone, dello scorso 11 marzo, nelle zone maggiormente colpite dal sisma. Dunque, il legno si dimostra un materiale ideale per costruire in zone sismiche. Quali sono gli sviluppi di questi vostri progetti di ricerca in questo campo dell'edilizia sostenibile? Sì, diciamo il progetto proseguirà quest'anno e inizio dell'anno prossimo con delle altre prove sismiche che saranno svolte presso un laboratorio a Lisbona nell'ambito di un progetto europeo che convolge altre università partner, Università di Graf in Austria e Università del Migno in Portogallo, che prevederà lo studio di altri sistemi costruttivi e si proseguirà inoltre anche studiando questo sistema costruttivo a telaio, però con gli elementi non strutturali, quindi con le finiture esterne, cioè in tonaco, serramenti, eccetera, per valutare anche l'effetto economico dei danni provocati dal sisma su queste strutture. Grazie 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 Grazie